A Milano esiste un santo che esaudisce ogni vostra richiesta, ogni vostro desiderio, subito, immediatamente. In Piazza del Carmine e questa è l'omonima chiesa di Santa Maria del Carmine e adesso andiamo a svelare questo misterioso arcano, andiamo a parlare di questo santo che esaudisce i vostri desideri subito. Ma sarà proprio vera questa cosa? Andiamo a vedere. Quello che vedete nelle immagini è Sant'Espedito, il santo delle cause veloci e quindi è tutto vero. A fare la fila davanti a Espedito ci sono studenti prima di un'interrogazione, prima di un esame, ci sono commercianti che devono in qualche modo portare a casa l'affare del secolo o della vita, ci sono persone che hanno bisogno urgentemente di una grazia o comunque di un piacere. E lui Sant'Espedito fa tutto il possibile per accontentarvi subito, per accontentarvi celermente, con una piccola raccomandazione, metteteci anche voi un po' del vostro affinché i vostri sogni, i vostri desideri si realizzino. E poi, ultimissima particolarità, a fianco del santo c'è la preghiera Sant'Espedito, quella da recitare prima di ottenere la grazia, ma c'è anche la preghiera per grazia ricevuta. Quindi una volta ricevuto il favore, una volta esaudito un desiderio, venite qui a dire una preghiera di ringraziamento. Lui è Sant'Espedito, qui nella chiesa di Santa Maria del Carmine, a Milano, in pieno centro, in piazza del Carmine. Grazie. Grazie. Grazie.